I miti dell'amore sono fondamentalmente due. Il primo è credere che quando siamo innamorati è il nostro partner a farci felice o comunque che non possiamo essere felici senza un partner che ci ami. Ma poi possiamo estendere questo concetto non soltanto alle relazioni sentimentali ma alle relazioni, alle cose in genere. Crediamo che possano essere i nostri figli a farci felice piuttosto che nostro marito, nostra moglie, piuttosto che un lavoro o una qualunque cosa. Cioè tutte cose esterne a noi. E un altro mito è quello di credere che noi possiamo fare felici fare felice a un'altra persona e quindi sentire tutto il dovere e qualche volta anche provare dei sensi di colpa se non riusciamo a fare felice la persona con cui siamo relazionati, se lei o lui ci dice che non la stiamo rendendo felice. In realtà noi non possiamo essere felici per qualcun altro, eccetto noi stessi, e non possiamo rendere felici nessun altro che non lo sia già di suo. Questo è fondamentale perché è importante avere una corretta visione della realtà. La corretta visione della realtà è proprio che la felicità possiamo raggiungerla soltanto se partiamo da noi stessi. E cosa significa partire da noi stessi? Significa imparare ad eliminare quelli che sono i nostri propri veleni mentali, ciò che offusca stare bene. I veleni mentali sono l'egoismo e tutti i suoi derivati che poi si trasformano in avversione, rabbia, invidia, gelosia, vanità, arroganza e sostituirli con l'opposto. L'opposto è inteso come altruismo e tutti i suoi derivati che poi sono il fatto di poter amare le altre persone, non provare invidia, non provare rabbia, non provare gelosia. Amare le altre persone significa essere in sintonia con le altre persone, avere compassione. compassione non significa però, e questo bisogna capirlo, provare la loro stessa sofferenza. Cioè se io provo passione, intesa sofferenza, quindi spesso si tende a tradurre il termine compassione, io provo la tua stessa sofferenza. Compassione nel senso di comprendere la sofferenza di un'altra persona. Ma è comprendere che anche l'altra persona, se soffre, soffre perché ha dei veleni mentali che deve riuscire a eliminare. Cioè siamo tutti sulla stessa barca, o per meglio dire siamo tutti su un oceano, diciamo, spesso senza barca e cerchiamo di navigare. Questo dovrebbe generare più solidarietà tra gli esseri umani se si rendessero conto di questo, perché è come dire, è come se incontro una persona, io ho una malattia rara, incontro una persona dall'altra parte del mondo, dall'altra parte del pianeta, con una cultura completamente diversa dalla mia, che però ha la stessa malattia rara. Tra noi si crea subito una solidarietà. E questa solidarietà in realtà dovremmo estenderla a tutti gli esseri senzienti, non soltanto gli esseri umani, perché tutti noi abbiamo la stessa malattia, tra virgolette, che è l'ignoranza fondamentalmente, che significa non comprendere correttamente la realtà e che si traduce con egoismo e tutti i suoi derivati. Quindi se noi vogliamo essere veramente felici, dobbiamo agire su noi stessi per andare almeno nella direzione di eliminare questi veleni mentali e rendendosi conto che è un lavoro che dobbiamo fare noi, non può farci qualcun altro, neanche un illuminato, neanche un Buddha, neanche una divinità può fare qualcosa per noi. Siamo noi che dobbiamo capire prima, quindi comprendere profondamente, non soltanto a livello intellettuale, ma comprendere veramente in profondità ed agire, diciamo, nel senso perlomeno della riduzione, nella riduzione di questi veleni mentali che sono la vera fonte, la vera causa della nostra infelicità. Tolti questi, l'infelicità sarà sicuramente sostituita da un senso di felicità molto profondo e non più removibile o sostituibile. Per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo. Ciao!